Salgono a 14 gli arresti dell'inchiesta Puscher che ieri ha messo KO, lo spaccio, nella zona della stazione centrale. Mentre stavano eseguendo le ordinanze di custodia cautelare, gli uomini della squadra mobile hanno messo le manette a un 14esimo spacciatore trovato in possesso di una ventina di grammi di eroina e di 4.700 euro in contanti. Anche lui, come gli altri, è finito in carcere. L'operazione antispaccio è il frutto di mesi di indagini, pedinamenti, appostamenti e impiego di agenti sotto copertura mandati a Prato dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine della Polizia di Stato. La strategia, pianificata per arrivare agli arresti altrimenti impossibili per uno spacciatore che viene trovato con una sola dose, la cosiddetta modica quantità, è stata quella degli arresti e dei sequestri di feriti. Sotto il coordinamento della Procura è stato possibile cioè documentare e perciò dimostrare la sistematicità dello spaccio. Le cessioni agli agenti sotto copertura che si sono finti tossicodipendenti sono state filmate dalle telecamere a alta risoluzione nascoste dalla Polizia Scientifica. Occhi invisibili che hanno seguito giorno e notte i movimenti di ogni singolo spacciatore. Telecamere posizionate in piazza della stazione e in piazzale della direttissima per monitorare tutta l'area considerata crocevia dello spaccio al minuto e per ricostruire la modalità dello smercio. Spacciatori accorti non solo a non farsi trovare con più di una o due dosi addosso ma anche attenti a ridurre al minimo il contatto con i clienti. Ecco che il tossicodipendente dopo aver consegnato la somma pattuita veniva indirizzato al cespuglio, alla fioriera, al cestino per i rifiuti o alla fessura di un muro usati come nascondigli. Episodi filmati uno a uno, circa 70 quelli finiti sui tavoli della Procura per aggirare l'ostacolo di una legge che complica la vita degli investigatori. Niente carcere per una singola cessione e niente carcere se la droga è leggera. Spacciatori per la maggior parte pendolari, viaggi fatti in treno quasi sempre con non più di qualche microdose nascosta sotto la lingua in modo da essere deglutita in caso di controllo. Secondo i calcoli della squadra mobile, ogni spacciatore riusciva a vendere tra le 10 e 15 dosi al giorno, una quindicina di euro il costo di una microdose di eroina più basso quello della marijuana.